Lei ha 35 anni, è già stata vedova, si è appena risposata e suo marito è già in carcere. Se i suoi figli continuano a frequentare i delinquenti, tranne la stessa fine, lo capisce? Lei ha figli? No. Vi faccio sapere il nome del mio avvocato. Ma che femmina sei che porti via i figli e le mamme? Tu che madre sei? Che le mandi a morire ammazzate? Che cos'è l'amore? Lei lo sa?